Siamo di nuovo con Francesco, stiamo parlando di cani e contestualmente quindi nel senso più ampio del termine anche di educazione all'ambiente perché essere attenti agli animali significa essere anche attenti all'ambiente. Francesco abbiamo già avuto due incontri con te e ci hai spiegato una serie di cose, vorrei entrare nel dettaglio di alcune questioni che riguardano la gestione concreta del cane. Parto da un'esperienza personale, l'altro giorno passeggiavo arriva l'amico con il cagnolone grande, io naturalmente sono abituato, qualcun altro potrebbe non essere abituato e quindi potrebbe impressionarsi, il cagnolone grande mi salta addosso per giocare e credo che gli faccia la differenza nella gestione del cane a passiggio anche l'accessorio, il guinzaglio. Sì, sicuramente fa la differenza, purtroppo ci sono ancora dei falsi miti difficili da sfatare, parecchie volte soprattutto da cuccioli si è contrario ai collari, vengono utilizzate vettorine a volte anche molto dannose per la crescita del cucciolo nel caso in cui parliamo di un cane di taglia grande. Il collare è un accessorio sacrosanto e per il cane adulto e soprattutto di grande taglia è sacrosanto per la sicurezza del cane e per la sicurezza di chi gli sta intorno il collare a scorrimento, detto anche volgarmente collare a strangolo. Non è una tortura per il cane, va saputo usare, nel senso che vanno date dei piccoli strappi al cane per fargli capire quando fermarsi o comunque quando rallentare e sono necessari. Poi ovviamente va dato da piccolo un'educazione al cane, soprattutto se è un cane che sarà un cane di taglia grande, va dato un'educazione innanzitutto a non tirare il guinzaglio, altrimenti la passeggiata non sarà più gradevole e in secondo luogo a non saltare addosso, a non essere troppo invadente, quindi insomma a dargli delle regole che renderanno poi la passeggiata quando il cane sarà adulto più gradevole. Mi sembra di capire dalle tue parole quindi che assolutamente il guinzaglio, il collare, non dobbiamo improvvisarlo, a volte ho visto delle corde, delle catene. No, 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 soprattutto nei cuccioli è importante che ci sia comunque un collare, un semplice collare che può essere quello a strappo, questo è comunque un collare che si chiude a gancio con un guinzaglio e che venga portato con quello. Improvvisare, già il collare a scorrimento che può sembrare simile a quello che è magari un guinzaglio attorcigliato per la manica, no? È diverso perché il collare a scorrimento appunto ha il meccanismo grazie al quale nel momento in cui il cane smette di tirare si allarga, mentre il guinzaglio essendo di nylon, essendo di questi materiali qui tende comunque a rimanere un po' più stretto e quindi può creare dei problemi nel cane, non problemi gravissimi, però è meglio non improvvisare, voglio dire, tanto sono oggetti che non hanno una spesa eccessiva, non hanno dei costi eccessivi. Sempre a proposito di passeggiata, chiariamo un altro punto, la museruola è obbligatoria, è facoltativa, quando lo è obbligatoria, quando non lo è? Allora, la museruola in termini di legge è obbligatoria sempre, quindi nel momento in cui si porta il cane a fare una passeggiata, la museruola è obbligatoria, soprattutto se si tratta di cani di taglia grande o comunque di razze definite anche erroneamente particolarmente aggressivi. Quindi è obbligatoria, è utile? Sì, nel momento in cui si ha la massima gestione del cane, magari con un buon collare, ma soprattutto con una buona esperienza, non è per forza indispensabile se sei in un punto all'aperto dove non c'è un passaggio di molte persone o comunque molti cani. Ovviamente se si vuole andare in un parco e magari dove è permesso liberare un cane dal guinzaglio, è chiaro che la museruola diventi indispensabile. Questo vale anche per i cani di taglia piccola? Sì, vale anche per i cani di taglia piccola, perché nonostante il danno che può inferire un cane di taglia piccola è minore rispetto a quello che può fare un cane di taglia grande, però è comunque un morso e quindi si incorrerebbe comunque in problematiche serie, soprattutto da parte del proprietario del cane. Bene, cambiamo accessorio. Anzi, io direi, cambiamo proprio questione. Quando e se il cane va lavato, va portato a lavarsi e quindi va portato nei negozi adibiti per tale servizio? Allora, partiamo da un presupposto. Il cane è un animale derivato dal lupo, quindi è un animale che ha subito decenni di domesticazione da parte dell'uomo. Il lupo in natura non viene lavato artificialmente, il cane di conseguenza per natura non ha bisogno di essere lavato, quindi non ha un bisogno fisiologico di essere lavato. Ovviamente nei contesti urbani in cui ci troviamo è verosimile che il cane debba avere comunque un aspetto decoroso, quantomeno magari anche nel rispetto degli altri, soprattutto vediamo se si hanno dei vicini nel momento in cui si è fuori casa. Se si è dentro casa è chiaro che il cane debba comunque avere un'igiene perché lo teniamo dentro casa. È giusto portarlo a lavare perché comunque vengono usati dei prodotti specifici magari per il pelo del cane, per la pelle del cane. Sbagliato è lavarlo troppo spesso, ancora più sbagliato è lavarlo troppo spesso d'inverno perché i cani conservano nel sottopelo il giusto, come se fosse una coperta per le intemperie e anche per il calore. Quindi è sbagliato lavarlo molto d'inverno e se il cane si ha fuori, quindi si ha all'esterno, magari evitare proprio di lavarlo d'inverno e magari lavarlo ogni due mesi d'estate, un mese o un mese e mezzo d'estate. Se si ha all'interno ovviamente rendendo più frequente il lavaggio si può anche lavarlo in casa, quindi comprare uno shampoo al negozio di animali e lavarlo tranquillamente in casa. Restiamo sulla passeggiata e entriamo sempre nel merito degli accessori, parliamo, riportiamo anche del rispetto dell'ambiente, ci sarebbe l'obbligo per il padrone eventualmente di pulire gli escrementi, giusti bisogni. Ci sono degli accessori particolari, degli attrezzi particolari che possono facilitare, semplificare la cosa, renderla più pulita? Allora è sicuramente indispensabile e necessario pulire gli escrementi che il proprio cane fa all'esterno, perché innanzitutto è obbligato dalla legge e in secondo luogo è proprio una forma di civiltà, perché poi anche noi quando magari passeggiamo con i nostri figli o comunque con degli amici e senza cani è spiacevole poi incontrare escrementi di animali o comunque inciamparci, quindi per evitare questo e per magari stare in un ambiente un po' tutti più puliti è indispensabile che tutti lo facciano. In commercio fortunatamente esistono tantissimi prodotti, magari dai sacchettini racchiusi dei contenitori di plastica che noi possiamo attaccare direttamente al guinzaglio, in modo tale che abbiamo sempre a portata di mano e non dimentichiamo, li attacchiamo al guinzaglio, li lasciamo là e ci stanno i sacchettini della spazzatura dentro, una volta messa la mano dentro poi viene raccolto e viene racchiuso nella busta, quindi non c'è problema. Ci sono anche delle soluzioni più pulite diciamo, però magari sono un po' più scomode da portare in giro, sono più magari da tenere nel proprio giardino o da usare in casa voglio dire. Cosa diresti a una persona che ha paura, la fobia dei cani? Cosa diresti invece al proprietario che con il cane sta passeggiando per strada e si imbatti in qualcuno che ha paura? Allora innanzitutto sono paure da rispettare, perché magari ognuno ha delle esperienze passate e quindi magari ci sono queste paure dovute a qualche motivo in particolare. Quello che mi sentirei di dire, l'unico modo secondo me per superare una paura del genere è quella di prendere un cucciolo con sé. Mi viene in mente di un amico di famiglia che era terrorizzato da ogni forma di animale, quindi non solo di cane, cane, gatto, ogni tipo di animale finché ha preso un cucciolo, da allora se ne è innamorato e ha superato la paura dei cani. Quindi il modo migliore per affrontare questa paura è quello di prendere un cucciolo. Per chi invece si trova dall'altra parte del guinzaglio e che magari ha un cane troppo esuberante è inutile magari dire alla persona che ha paura, no vabbè tranquillo il cane non fa nulla, no vabbè essere tranquillo il cane non fa nulla. Rispettare la paura, tenere il cane vicino a sé, magari allontanarsi e non obbligare il passaggio vicino alla persona che in quel momento prova disagio. Anche perché il cane può notare il disagio della persona che gli passa a fianco e quindi a volte non possiamo essere così sicuri effettivamente che il cane non faccia nulla, come diciamo spesso. Andiamo dal veterinario Francesco, perfetto. Il cane in macchina non vuole starci, non vuole salire, non vuole viaggiare. Come qualcosa possiamo fare per addestrarlo alla macchina? Ok, anche questa è una di quelle cose che va fatta da cucciolo. Per abituare il cane a stare in macchina ci sono diversi metodi, innanzitutto partiamo sempre dagli obblighi di legge, è obbligatorio tenere il cane in macchina con un trasportino, quindi abituare innanzitutto il cane al trasportino, prima di abituarlo alla macchina. Quindi un'idea potrebbe essere quella di mettere in casa oppure nel giardino il trasportino, metterci delle crocchette oppure un premio dentro, in modo tale che il cane nel momento in cui entra nel trasportino, mangia la crocchetta, associa il momento del piacere, che può essere quello del premio, del bocconcino della crocchetta, al trasportino. Quindi piano piano abituarlo al trasportino. Una volta che il cane entra nel trasportino senza forzature, quindi sbagliatissimo prendere il cane, buttarlo nel trasportino e chiudere il trasportino, sarà un trauma per il cane, quindi ogni volta che poi dovremo portare il cane in macchina sarà la stessa cosa. Se si fa capire che è un'azione piacevole, il cane lo farà automaticamente. Una volta abituato al trasportino, si metterà il trasportino in macchina e si metteranno dei premi nel trasportino, il cane entrerà piano piano nel trasportino, insomma sono dei passaggi graduali, però una volta abituato il cane al trasportino, il grosso è fatto, perché vedrà quell'ambiente appunto come un ambiente sicuro, un ambiente tranquillo, quindi si metterà nel trasportino e sarà tranquillo.